Mi trovo in via Medaglie d'Oro a Taranto, in una zona centrale della città. Quando in numerose occasioni ho detto che l'amministrazione Melucci non è in grado e incapace amministrativamente anche di assicurare il minimo della ordinarietà quanto ad interventi, penso di aver detto una cosa sacrosanta, facilmente verificabile in tante situazioni come quella che vi sto mostrando in via Medaglie d'Oro. Oltre ai soliti problemi annosi, un manto stradale pericolosissimo, la gente sale e scende dal marciapiede e si trova sprofondamenti di ogni tipo perché stiamo parlando di un manto stradale rappezzato con dell'asfalto che sembra quasi ricordare le montagne russe per come si sale e si scende, ma quanto addirittura qui si risale, è stato gettato l'asfalto in maniera pedestre, infatti con i piedi questi lavori conditte regolarmente pagate. La cosa su cui mi voglio soffermare oggi è che vedete le strisce pedonali completamente cancellate ed è un fatto molto grave perché le strisce pedonali devono essere ben visibili, perché qui la gente attraversa, perché stiamo in prossimità di curva e ci sono verificati parecchi incidenti. Allora è inammissibile che le strisce siano scomparse ma non per una usura diciamo normale. Il problema è che evidentemente non vengono rifatte da anni, cioè non è che sono strisce pedonali che sono state tinteggiate, poi ovviamente si sono scolorite e andrebbero ripristinate. No, nulla di tutto questo. Qui siamo arrivati all'assurdo che abbiamo delle strisce pedonali che sono completamente scomparse. L'incuria, l'abbandono, quindi immaginate un po' che zona davvero a rischio tra manto stradale completamente sconnesso, difficoltà a salire sul marciapiede, penso soprattutto per gli anziani, per i disabili, per le mamme con il carrozzino per il proprio figliolo e poi nel momento in cui uno vuole un minimo di sicurezza non ha neanche la certezza delle strisce pedonali sulle quali attraversare. Guardate qui per esempio la macchina transita, vedete, e le strisce pedonali non ci sono. Insomma, secondo voi questo è un sindaco che sta seminando la rinascita? Ripeto, è un'amministrazione che non sa garantire neanche il minimo dell'ordinarietà, il minimo non lo assicura. Melucci, tu e la tua amministrazione non siete all'altezza di gestire Taranto, tornatevene a casa. I tarantini vogliono vivere in condizioni sicure, non siete in grado neanche di assicurare il minimo di sicurezza relativa alla viabilità urbana.